Si parla di nuovo della collaborazione tra il territorio aquilano e Roma, una collaborazione indispensabile per la ripresa di questo territorio. Sì, ho detto che ringrazio Gianni Alemanno per la sua presenza che è ormai diventata importante e sistematica. Si è detto prima che la prima città d'Abruzzo è Roma con i suoi 700 mila abruzzesi presenti, ma ha anche cercato di sottolineare la necessità che tutto ciò che si sta elaborando sul territorio, tutte queste manifestazioni che in un modo o nell'altro indicano vie di sviluppo per l'Abruzzo, debbano rientrare in un contesto che deve rendere organico l'intervento che si sta sviluppando. E questo strumento che noi abbiamo a disposizione è il piano speciale territoriale, un piano sovraordinato che dà la possibilità all'intero territorio, perché non si ferma ai confini dei singoli comuni, di esplicitare una propria logicità e organicità. Ecco, una ripresa del turismo però richiede anche una ricostruzione. Abbiamo sentito gli operatori turistici parlare del fatto che non si può prescindere dalla ricostruzione dell'Aquila in quanto fulcro di questo territorio. Beh, parlare della ricostruzione dell'Aquila significa parlare di una prospettiva indispensabile non solo a questo territorio ma all'intero Abruzzo. Noi già dovremmo avere a disposizione il più grosso cantiere d'Europa, dovremmo sostanzialmente pensare il territorio in funzione di una ricostruzione possibile e creare un'occasione importante perché nel dramma che abbiamo vissuto ci sia la possibilità di risorgere e creare occasioni di lavoro per il nostro territorio. L'errore del passato magari è stata la mancata sinergia tra i vari antilocali. Per il futuro è prevista una maggiore collaborazione? Beh, io ho denunciato che molto spesso la vischiosità per quello che concerne la ricostruzione è stata un po' caratterizzata da una scarsa capacità dei soggetti istituzionali di parlarsi, di capirsi, di trovare delle mediazioni possibili. Ci troviamo ormai in una fase per la quale i sindaci diventeranno protagonisti di questo tipo di percorso con uffici comunali di aria vasta che impegneranno diversi territori. Speriamo che questa sia un'occasione per recuperare il tempo perduto ma soprattutto speriamo sia un'occasione perché l'intero territorio cominci veramente una ricostruzione che sia non soltanto di tipo edilizio ma che vada a investire tutti i settori strategici di questo territorio.